I servizi del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia hanno tenuto un concerto dal titolo Note di Natale. Sentiamo. La musica come strumento di crescita e di formazione individuale. È stato questo il messaggio che la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e l'Associazione Italiana Formatori Umbria hanno voluto lanciare, organizzando insieme al Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia, il concerto Note di Natale, che ha visto protagonisti giovani studenti dell'Istituto. Una serata augurale in vista delle festività natalizie aperta dal coro delle Voci Bianche del Conservatorio, diretto dal maestro Franco Radicchia e chiusa dall'esibizione del gruppo vocale Stella Splendens su musiche di Mario Castelnuovo Tedesco e tessi di Garzia Lorca. Non è mancato poi lo spazio per i giovanissimi talenti, tra cui i violinisti Federico Venditti e Okubu Canaco, il pianista Fabio Afrune e l'organista Biagio Quaglino. In sala durante la serata, organizzata da Simonetta Sterrantino e presentata dalla professoressa Sauretta Ragni, anche Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Antonio Bellini, presidente del Conservatorio Morlacchi e Federica Paorucci, presidente AIF Umbria.